Buonasera, grazie a tutti. Prima che iniziamo devo presentare il nostro responsabile di comunicazione Daniel Mugnulli che prenderà in consegna tutta la conferenza stampa e quindi darà anche ordine a tutti i giornalisti, a tutti gli interessati a volerci fare delle domande. Faccio una premessa importante, adesso è il momento della presentazione di Mr. Boscaglia quindi tutte le domande devono essere legate a lui, eventuali altre domande, il Presidente si riserva di farle con voi nella mixzona, ci mettiamo di là e rilascio le interviste su altre domande che non saranno di natura legate al Mr. Grazie, prego Daniel, benvenuto. Grazie Presidente, buonasera a tutti, vedo una sala stampa molto numerosa nonostante il caldo, il tema di oggi appunto è la presentazione di Mr. Boscaglia, so che molti di voi vorranno sviscerare altri temi molto allettanti e lo potranno fare al termine proprio in Mixed Zone, vi chiedo cortesemente di formulare una domanda, di presentarvi come sempre e lascio una parola di presentazione e introduzione proprio al Presidente che questa sera insieme a noi presenta anche il nostro direttore sportivo Emanuele Belviso alla sua sinistra e poi Mr. Boscaglia alla sua destra. Ringrazio anche il direttore generale Vincenzo Mililo per essere qui, il team manager Diego Valente e il responsabile del settore giomalile Gianfranco Mancini. Prego, presto. Grazie, grazie Daniel, grazie per l'introduzione. A sinistra ho il direttore Belviso che con me ha lavorato, lavora con me da tantissimi anni. Alla mia destra c'è Mr. Boscaglia, sono persone a cui il Presidente ha posto la fiducia per un'annata, io penso, importante per il Foggia. Ho voluto fortemente Boscaglia, come Boscaglia è voluto venire fortemente a Foggia per non fare un campionato di comparsa ma per essere protagonisti in questa competizione di quest'anno. Sul nostro direttore Belviso io penso di aver speso tanti elogi negli anni precedenti, è un ragazzo molto taciturno, gli piace lavorare suodo e portare i risultati sportivi a casa. Sul Mr. Boscaglia la mia presentazione non basterebbe per quello che lui ha vinto in C, per le tante panchine fatte in B. Abbiamo entrambi, tutti e tre, la voglia di fare un grande campionato, di fare cose fatte per bene, di portare a Foggia giocatori di peso che insieme con l'organico già sotto tesseramento faranno sicuramente una base per un inizio con gli innesti che dovranno darci quel qui di in più per poter essere competitivi in tutte le gare. Ho apprezzato quello che Boscaglia mi ha detto, il Presidente si deve guardare gara su gara, pensare alla prima gara qual è e a vincerla e poi a pensare alle altre gare. è evidente che come tutte le cose servirà il tempo, il lavoro e poi sarà il campo a parlare e a determinare quello che oggi raccontiamo, se raccoglieremo i frutti, è sempre il campo l'arbitro di tutti i risultati. Sto sereno perché ho due persone motivate come me, vogliose come me, accettiamo tutte le critiche possibili, però criticarci ancora prima di iniziare francamente diventa una cosa poco piacevole per chi lavora con voglia, passione e amore per il Foggia. Io darei la parola a Boscaglia se non avete domande da farmi su prevalentemente sul direttore Belviso e su Boscaglia e possiamo andare avanti. Grazie. Si sente? Buonasera a tutti, naturalmente felice di essere qui, di intraprendere questo viaggio e con l'auspicio che sia un viaggio interessante, importante, che possa portare soddisfazioni e gratificazioni non solo a me, alla società, ma soprattutto ai tifosi. Vogliamo onorare la maglia come giusto che sia perché sembra una piazza importantissima e l'unica promessa che possiamo fare è quella che lavoreremo sodo, suderemo e faremo sudare la maglia ai ragazzi che andranno in campo. Poi, come ha detto il Presidente, sarà il campo il Giudice Supremo sempre, però da parte nostra daremo il 101%, giorno dopo giorno. Il resto lo lascio a voi. Grazie. Buonasera a tutti. Io ho già lavorato l'anno scorso come responsabile dell'area tecnica. Quest'anno un ruolo un po' delicato perché il direttore sportivo del Foggia non è da tutti. Ringrazio il Presidente Canonico per avermi dato questa grande opportunità. Ho sempre detto una piazza come Foggia non è da tutti. Noi stiamo lavorando veramente sodo perché dal primo giorno che ci siamo incontrati con il Ministro Boscaglia ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto che il Ministro è una piazza importante, una piazza come Foggia è una piazza che non c'entra nulla la Lega Pro. Dunque, mister, se dobbiamo spostare il suo progetto devi sapere che qui ci dobbiamo assumere tutte le nostre responsabilità. Per me è una grande responsabilità. Chiaramente il mio obiettivo è quello di far bene. Poi il calcio sappiamo tutti quanti che alla fine ci metti tutta la tua passione e tutta la tua volontà. Poi il vero, diciamo, sono i risultati quello che poi ci dà la ragione. Grazie a tutti. Buonasera, Mario Schiena, Redicola del Sud. A nome, visto che sono i più giovani di tutti, le do il benvenuto a Foggia. Le domande brevissime per cui lascio le altre ai colleghi. Cosa le ha convinto a venire a Foggia e che progetto le è stato prospettato? I progetti si fanno inizialmente, dopo due settimane non esistono più. Oppure una squadra a parte senza progetto esista dieci anni insieme. Il progetto lascia il tempo che trova. Io sono stato convinto dal fatto che il presidente mi ha voluto, il direttore mi ha voluto. Foggia è una piazza importante, è una piazza che mi stimola moltissimo perché c'è anche una tifoseria molto, molto focosa. E basta questo. Non c'è altro. Il mio mestiere è quello di andare in campo, lavorare con i giocatori. Penso che a Foggia si possono raggiungere obiettivi importanti, così come è stato in passato. Penso che si possa ripresentare l'occasione di poter fare benissimo. A volte anche facendo benissimo magari non si vince, però fare benissimo non significa solo vincere, ma significa fare il massimo, far divertire la gente, far sì che la gente si identifichi nel gruppo e viceversa. Il gruppo si identifichi nei colori, nella città. e quindi questo è quello che mi interessa, fare un percorso importante, fare un percorso bello, farmi conoscere come persona, conoscere Foggia, conoscere i foggiani, conoscere la passione che avete, conoscere non solo le persone ma i vostri usi, i vostri colori, i vostri sapori. Questo è che mi interessa di più perché comunque verrò con la mia famiglia. e se non ci sono questi presupposti penso che si possa lavorare non bene. Allora io cerco prima di tutto queste cose affinché io possa lavorare nel migliore dei modi. Attivio da Matteis, mister Foggia TV. Buonasera. La vede l'ombra di Zeman? Ma io non sono venuto a sostituire Zeman. Io ho 750 panchine, 503 professionisti, 230 in Serie B, ho vinto sei campionati. Rispetto a Zeman come un mito, come un personaggio importante che ha fatto tanto per il calcio, che sta facendo tanto per il calcio perché è ancora in attività. Personaggio importantissimo anche per noi siciliani perché lui ha lavorato anche in Sicilia sia al Palermo, nei giovani, che a Licata. Però sa perfettamente che questa città è innamorata pazza del Boemo. Ma io su questo non posso farci niente, non posso dire niente. Devo fare il mio lavoro. Devo fare il mio percorso. Non posso parlare di Zeman e non posso pensare a Zeman con tutto il grandissimo rispetto che c'è nei confronti del mister. Quindi a me non pesa questa cosa. Se pesa a voi è un vostro problema. Se pesa a voi è un vostro problema, non un mio problema. Sicuramente non è un mio problema. Ha fatto un giro in città? Sì. L'ha fatto ieri, no? Sì. Come l'ha trovata Foggia? Dicono che è brutta. Ma fanno una brutta pubblicità effettivamente. E come mai? Ma la fanno anche per la mia città, giù in Sicilia. E poi quando arrivano nessuno vuole andare via. Quindi spero che sia come la mia città, che uno arriva e poi non vuole andare più via. Non mi fermo ai luoghi comuni, voglio vivere le cose, voglio testarle e tastarle. E quindi mi interessa poco di quello che dice la gente. Voglio vedere con i miei occhi, voglio camminare con le mie gambe. Voglio, come ho detto prima, ascoltare, sentire, sapori, odorare. Questo è quello che mi interessa. E poi penso con la mia testa. Grazie. Carmine Troisi, Telefoggia. Intanto benvenuto, mister. Due domande, in verità. Una per il mister, una per il direttore Belviso. Al mister chiedo qual è il Foggia che le immagina, che ha in mente, anche rispetto a quelli che attualmente sono i calciatori sotto contratto e poi la faccio al direttore sportivo. Partiamo da questa. In base ai calciatori che abbiamo sotto contratto è una squadra che dobbiamo costruire perché comunque mancano un bel po' di giocatori e stiamo lavorando moltissimo per acquisirne le prestazioni. E quindi la squadra che voglio è una squadra che sia intensa, che giochi un buon calcio, ma ripeto, questo non dipende solamente dall'allenatore o dai giocatori, dipende da mille fattori, soprattutto dagli avversari che incontreremo. Però è normale che l'allenatore vorrebbe che la squadra giocasse sempre un grandissimo calcio e che fosse più intensa degli avversari e soprattutto che vincesse le partite. A me, devo dire la verità, una delle cose che mi sta più a cuore è quello di divertire le persone che vengono a guardarci. E questo non significa che devi fare un calcio spumeggiante, un calcio champagne, ma che quando finiamo la partita i giocatori escono tra gli applausi perché si sono impegnati al massimo. E se gli avversari sono più bravi è giusto applaudire anche loro. Per il direttore invece, il 22 di luglio si comincia a lavorare per il ritiro precampionato. Entro quella data, in termini di percentuale, quanto sarà pronto il Foggia di Boscaglia? Ma noi stiamo cercando di lavorare giorno per giorno per cercare di portare almeno una base importante in ritiro. Certo che voi sapete bene, per prendere giocatori importanti e profili alti bisogna aspettare un pochino perché come la piazza di Foggia il lavoro che stiamo facendo si sta cercando di portare dei profili altissimi e quando cerchi di trovare un giocatore importante ti dà un po' di tempo. Noi, quello che ci ha chiesto il Ministero, almeno di portare una base almeno dei 20-21 calciatori. Poi sapete bene, qualche casella lasciamo sempre libera perché poi ci può essere qualche colpo alla fine. Quello che stavamo aspettando si decide all'ultimo momento come è successo l'anno scorso. Sapete bene la situazione di Ferrante che ci ha raggiunto il ritiro. Come altre situazioni possono succedere di questo. Antonella D'Aula, Antenna Sud. Mister, lei è un esperto di promozioni. Con l'Entella ha utilizzato il modulo 4-3-1-2. Pensa possa essere un modulo interessante anche per il Foggia con Curcio trequartista? Tutto può essere, niente. Nel senso che comunque vedendo anche la squadra Curcio non è un trequartista che possa giocare in necessità e in situazioni di necessità lo può anche fare però è un giocatore che deve giocare in coppia con un altro attaccante e magari tirarsi un po' dietro. Ed è quello che stiamo cercando in questo momento. Poi in certe situazioni può anche farlo con i tre centrocampisti dietro ma stiamo allestendo qualcosa di diverso anche se ancora non abbiamo definito diciamo quello che deve essere il modulo che ci deve contraddistinguere. Abbiamo un'idea, ho un'idea mia però non possiamo fossilizzarci su un determinato modulo che debba essere sempre quello. Dobbiamo essere un po' più elastici dobbiamo essere un pochettino più malleabili e dobbiamo anche vedere le partite di volta in volta come si metteranno anche se la nostra fisionomia deve essere chiara sin dal primo giorno. Un'ultima domanda. Un contratto annuale con un possibile rinnovo in caso di terzo posto questa soluzione la inorgoglisce? Le dà qualche responsabilità in più? Un suo commento? Ma no, responsabilità no perché noi comunque nasciamo con le responsabilità. Il mestiere dell'allenatore è un mestiere di responsabilità sia che uno prenda o guadagni mille euro o che guadagni centomila euro. il problema non sono i soldi o l'anno di contratto il problema è la responsabilità che tu hai come mestiere di allenatore perché è la responsabilità dei risultati di far giocare bene la squadra di far sì che la squadra sia ripeto come ho detto prima il simbolo tra virgolette anche della città l'identificazione di una città sportiva. quindi no, io dico che questo contratto nasce da una mia voglia di venire a Foggia e dalla forte convinzione della società di volermi e quindi siamo andati un po' io sono andato incontro a loro, loro incontro a me e su questa base diciamo abbiamo messo giù anche qualcosa per il futuro perché io ho messo tanto per il futuro qui a Foggia e la società tra virgolette mi è venuta incontro quindi è un anno con opzione ma su un discorso in cui io credo tanto. Buonasera mister Lello Scarano Foggia TV intanto volevo chiederle per quanto riguarda lo staff se è già definito o state ancora mettendo a punto qualcosa dal punto di vista del mercato si è chiesto di poter avere alle sue dipendenze qualche calciatore che ha già avuto in passato e se leggendo la storia si è reso conto che altri due siciliani hanno fatto vincere dei campionati in passato qui a Foggia la prima era sullo staff che è definito ma lo ufficializzeremo tra qualche giorno o qualche settimana quindi questo ok quindi non abbiamo nomi al momento sì ci sono ma li diremo dopo nel senso si diranno nei prossimi giorni la seconda era su qualche calciatore sì ci sono nomi di calciatori che io ho allenato ma per conoscenza più che altro non perché io voglio quei calciatori quindi si sta facendo un lavoro a 360 gradi su quello che è il discorso sia tecnico che tattico perché comunque andare a lavorare su una base è comunque già importante perché Foggia ha fatto bene l'anno scorso quindi c'è una base importante stiamo lavorando su alcuni prospetti interessanti ma il mercato non è facile anzi il mercato è difficilissimo quindi dobbiamo anche capire le condizioni o tutto quello che ci verrà proposto o quello che noi vogliamo se si può fare quindi sicuramente c'è anche qualche nome di qualche giocatore che ho allenato io certo e la terza? qui parliamo della storia Marino, Caramanno ci mettiamo anche Zeman che è siciliano d'adozione Pasquale è un mio amico quindi sì sì ma ripeto il siciliano per natura non è uno che si ambienta facilmente come ho detto in altri posti perché ama troppo la sua terra un po' come il pugliese o il calabrese siamo amanti della nostra terra è proprio per questo che ci amiamo Terroni con orgoglio lo dico però chi lo fa lo fa con grande amore con grande passione quindi che un siciliano diciamo vada fuori la Sicilia e vinca non mi stupisce affatto io sono uno di quelli che si trova bene dappertutto ho un buonissimo spirito di adattamento e poi amo troppo il mio lavoro quindi dove c'è l'opportunità di lavorare e fare bene mi trovo bene mister buon pomeriggio Raffaele Fiorella Gazzetta del Mezzogiorno diceva prima non dovremmo fossilizzarci su un solo modulo ma si può dire che lei predilige la difesa a quattro diciamo in linea di massima anche se io ricordo che col Brescia per esempio vinse qui col 3-5-2 mi piace molto la difesa a quattro però non so se col Brescia abbiamo vinto qui col 3-5-2 era un 4-2-3-1 penso però non mi ricordo bene a Novara però abbiamo giocato spesso a tre perché avevo dei giocatori che facevano molta fatica a giocare a due quindi va tutto in base anche a giocatori che conoscerai col tempo però stiamo cercando di fare una squadra assolutamente con la difesa a quattro Come si descriverebbe come allenatore? Io qualche settimana fa sentivo Pagliarulo che di Foggia la conosce molto bene diceva è un tecnico che punta molto a creare uno spogliatoio forte, unito, compatto a trasmettere personalità alla squadra è anche molto meticoloso nella preparazione delle partite anche nello studiare poi l'assetto in base agli avversari è così No è così però io non mi definisco nel senso che non lo so come definirmi credo che sia diciamo la normalità per ogni allenatore che si voglia chiamare allenatore tutto ciò che hai elencato tu adesso essere meticolosi nella preparazione delle partite studiare l'avversario credo che sia diciamo faccia parte della normalità creare un gruppo che sia tra virgolette un gruppo famiglia è importantissimo quindi tutte queste diciamo così caratteristiche ci devono essere uno spogliatoio però non saprei come definirmi non lo so è bene che lo facciano gli altri avrei difficoltà a farlo ecco e poi volevo chiederle al di là delle aspettative del Foggia quanto è importante proprio anche sul piano personale per lei questa esperienza da un punto di vista di rilancio insomma perché Palermo non è andata bene stare quasi un anno e mezzo fermi immagino non sia una bella cosa e volevo chiederle se invece rispetto al girone che si profila diciamo di cui molti dicono che potrebbe essere più abbordabile al di là se ci sarà o meno il Pescara dato che mancheranno Bari, Catania, Palermo effettivamente è così oppure al momento non ci si può sbilanciare in previsioni di questo tipo grazie no parto dall'ultima il girone è sempre un giro difficile perché a livello ambientale è un giro difficile questo per storia quindi poi ci sono società che comunque partono le 4-5 società che partono sempre per vincere il campionato comunque costruiscono squadre importanti per far sì appunto di giocarsi magari lo sprint di finale con gli altri quindi il girone difficile sarà difficile indipendentemente se il Bari non c'è più che il Palermo non c'è più o il Catania non c'è più sarà un campionato comunque difficile un girone molto molto difficile per quanto riguarda la prima io guarda ma ti dico la verità ma non è presunzione ma niente te lo dico perché ho comunque anni di esperienza io non devo rilanciarmi non mi sento questa responsabilità mi sento la responsabilità che sono a Foggia che è una piazza forte focosa importante con un passato importante questa è una responsabilità ma non mi sento la responsabilità di rilanciare io non devo rilanciare me stesso sono qui a fare il mio lavoro io al Palermo sono andato giù dopo un grande corteggiamento del Palermo ho fatto i danni di contratto poi non ho avuto la possibilità di finire il campionato non per colpa mia di sicuro quindi l'anno scorso ho avuto tante possibilità rifiutate perché magari secondo me non c'erano le condizioni quindi è stato un anno che mi sono preso quindi rilanciarmi non la vedo così ecco però ci può stare buonasera mister Michele Carelli di Radio Nova le volevo chiedere spesso si dice quella squadra ha uno stile ha una solida identità di gioco le volevo chiedere se stile e solida identità di gioco possono conciliarsi con il concetto di duttilità di maleabilità di cui lei ha parlato in precedenza e poi le volevo dire un'ultima cosa io sono venuto molto spesso negli anni scorsi a Gela e a me Gela è piaciuta per cui per la quale insomma della quale si dice un po' come Foggia insomma a me è molto piaciuta sono stato 6-7 volte in trasferta grazie riferirò ai miei concetti grazie la ringrazio perché quando vai fuori soprattutto al nord si parla di delle città meridionali in generale a parte quelle grandi che è un po' un po' così ma è un campo caldissimo quindi no io credo che noi dobbiamo cercare di avere una nostra fisionomia importante però il calcio ma soprattutto negli ultimi anni negli ultimi 10 anni 15 anni ci insegna proprio che non possiamo estremizzare non possiamo essere estremisti ma così essere estremisti secondo me in tutto è sbagliato in tutto nella politica nel cibo in tutto è sbagliato anche vado magari fuori fuori discorso adesso quando si fanno le diete mangiare questo no mangiare troppo una cosa o niente un'altra cosa non va bene tutto è e anche nel calcio è cambiato un po' tutto questo quindi noi non possiamo fossilizzarci su un determinato tipo di discorso tattico perché poi troverai squadre che ti avranno così studiato bene così avranno così imparato la lezione che magari in qualche partita avrà qualche difficoltà e se non hai un piano B se non sei maleato se non sei elastico avrà difficoltà quindi noi dobbiamo avere una nostra fisionomia ma all'interno di questa fisionomia dobbiamo saper muovere le piedine in maniera anche diversa quindi questo è determinante non è importante è determinante prego Giovanni Cataleta Mitico Channel buonasera buonasera Volevo chiedere lei in passato ha giocato anche con un doppio play a centro campo ritiene che possa affiancare a Petterman un altro con caratteristiche simili o si dovrà guardare questo aspetto sì si può fare ma dipende anche da quello che avremo sugli esterni e dal giocatore che avremo davanti quindi sotto punta perché lì poi ci vuole il sacrificio ci vuole gente che corre che si inserisca gente che aiuti perché giocare con due magari con qualche passista in più a metà campo comporta il fatto che poi gli inserimenti devono farli assolutamente sempre gli esterni o la punta sotto dipende da tanto però i nostri centrocampisti devono sapere che devono correre devono correre inserendosi sia esternamente che centralmente devono saper fare un po' tutto non voglio il monotematico ecco desidero avere giocatori che saprano fare più cose stiamo cercando questo tipo di giocatore Posso? No l'ultima domanda Ministero ma lei lo sa che deve arrivare minimo al terzo posto Perché? Come perché? Ah non lo sa non ne ha parlato col Presidente? No che succede? Ah come ne parla solo con noi Perché che dice il Presidente? Il Presidente ha detto minimo terzo posto e non gliel'ha detto? No ma queste sono cose Come no? Qua ci sono cose importantissime Mister Terzo posto Minimo Ma stiamo scherzando terzo posto Cioè secondo? E io venivo qua per il terzo posto Ah la grande Scherziamo scherziamo perché poi domani scrivete il mister vuole il primo posto non è così Ci sono delle cose delle quali abbiamo discusso con il Presidente e ci siamo trovati assolutamente in linea d'accordo siamo convergenti su molte tematiche e dinamiche quindi vogliamo fare bene come diceva il Presidente e lo ha detto prima il Presse io non posso pensare a quello che faremo io devo pensare alla prossima partita perché se io penso a quello che faremo disperdiamo troppe energie e allora io devo pensare qual è la prossima partita quella del 28 con chi giochiamo il 28 ecco noi dopo vincere quella partita non posso pensare a nient'altro a nient'altro finita quella penseremo alla prossima solo così si possono vincere campionati solo così pensando partita dopo partita o comunque si può fare bene solo così può fare bene poi ci sono partite in cui vinci magari partite che pareggi partite che perdi però così noi non non lo nascondo soprattutto Trapani non partivamo mai per vincere il campionato ma ne vincevamo uno l'anno perché abbiamo lavorato così ed è quello che ha contraddistinto un po' poi la mia carriera devi lavorare così perché se pensi troppo a lungo termine quindi a me piace l'obiettivo a breve termine perché con l'obiettivo a breve termine si costruisce quello a lungo termine ma da solo è fisiologico